Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo appuntamento un unico tema che sviscereremo in varie sfaccettature, ma andiamo per ordine, ecco i titoli. L'andamento della campagna vaccinale in Toscana tra pregi e difetti. Poi parleremo anche della vaccinazione degli over 80, un'interrogazione del portavoce dell'opposizione. E poi il sistema informatico va in tilt per quanto riguarda la prenotazione dei vaccini. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Presidente della Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali Enrico Sostegni fanno il punto della situazione a margine della seduta d'aula che si è tenuta il 23 e il 24 di marzo. Ascoltiamo. Devo dire che anche rispetto a quello che è stato detto nelle settimane passate, la percentuale di somministrazione è più alta. Abbiamo accertato che vi erano degli errori nelle percentuali che venivano date. Non 90.000 vaccini agli over 80 come sono stati spesso scritti, ma in realtà ad esempio 106.000 perché non sono stati calcolati i circa 11-12.000 vaccini che noi abbiamo somministrato alle RSA, dove siamo stati i primi in Italia a completare il ciclo e non sono stati considerati circa 4-5.000 over 80 che magari erano personale sanitario iscritti agli ordini anche se ormai in crescenza o altre categorie che sono entrati nelle prime somministrazioni di vaccini. Oggi abbiamo somministrato già più di 428.000 dosi di vaccino Pfizer e sono circa, ne abbiamo utilizzato, l'88% delle dosi ricevute, 234.000 agli operatori sanitari, circa 31.000 agli ospiti delle RSA e più di 100.000 agli over 80. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo e allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario di chi è in prima linea. La macchina delle vaccinazioni, cioè la capacità di erogare i vaccini, c'è e su questo infatti la Regione ha dei risultati positivi. Mentre non sta andando bene, siamo in ritardo sulla vaccinazione degli over 80. Questo però per tante motivazioni, una delle quali è sicuramente perché è stata organizzata la macchina della vaccinazione attraverso i medici di medicina generale che ha impiegato un po' più tempo. E questo ritardo nelle prossime settimane verrà recuperato. In questa settimana sono in distribuzione 46.000 vaccini, 70.000 vaccini la prossima settimana. Insomma, intorno a Pasqua arriveremo a oltre 200.000 anziani over 80 vaccinati su 320.000. Poi ci sono quelli che sono già stati vaccinati perché erano in RSA. Quindi diciamo che intorno a Pasqua si dovrebbe tornare ad un livello di vaccinazione degli over 80 importante. E quindi la Regione Toscana ha intenzione di imprimere una forte accelerazione a quella che è la vaccinazione degli over 80, tale da arrivare alla somministrazione che potrebbe essere conclusa entro, come prima dose, il 25 aprile. E quindi chiudere il richiamo a metà di maggio. L'assessore regionale Simone Bezzini risponde in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega in merito al modello organizzativo proprio per la somministrazione dei vaccini. La Regione conta dunque di intensificare questa somministrazione agli over 80 già nelle prossime settimane. È evidente che ora bisogna accelerare sugli over 80, ne sentiamo tutta la responsabilità. Bene ha fatto il Presidente Gianni a dire che entro il 25 di aprile devono essere tutti vaccinati. Arriveranno 50.000 dosi in questa settimana e le faremo tutte entro venerdì. Noi siamo molto attenti a vedere se davvero i medici di medicina generale riusciranno a farlo. Se non ce la fanno loro allora entreremo in gioco noi con gli 30 hub sul territorio e poi 70.000 la settimana successiva. Insomma il nostro obiettivo è davvero di recuperare il terreno tenendo conto che ad oggi abbiamo, come detto prima, vaccinato più di 100.000 over 80 in Toscana. Serve cambiare metodo, serve migliorare. La Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come il numero di persone vaccinate over 80. sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid. Sono le persone più fragili, i fragili fra i fragili ho definito. E queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente entro Pasqua. Abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida, abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile, abbiamo chiesto un'azione tempestiva, abbiamo chiesto di vaccinare volontari, volontariato, donne e uomini che dedicano loro tempo al volontariato, utilizzare la protezione civile, intanto vaccinare rapidamente e fare in modo che ovviamente anche le aziende sanitarie possano fare un'azione attiva. Una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare. I medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili, quelli che non si possono muovere. Le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta. Allo stesso tempo questa deve essere la priorità delle priorità. La sensazione che abbiamo, questo per tutti quanti, è che le tre ASL si stiano muovendo in maniera totalmente diversa. Quindi come se non ci fosse una linea unica regionale, ma ogni ASL si stia muovendo per conto proprio. E questo ovviamente porta anche disparità, perché quando ci troviamo a confrontarci in aula, ma anche nelle commissioni, piuttosto che con l'assessore, ci viene detto che nell'ASL centro si fa così, nell'ASL nord-ovest si fa diversamente. E io credo che questo non sia il metodo per lavorare. Ci vuole, oltre ad avere gli spazi e l'organizzazione adeguata, che ancora manca, ci vuole anche una programmazione che sia efficiente ed efficace. Ricordo ovviamente che chi vuole vaccinarsi deve poterlo fare intanto il prima possibile. Questo dipenderà anche dalla mole di vaccini che arriverà, e a quanto abbiamo capito, arriverà presto dal governo. Ma la campagna vaccinale deve essere ben organizzata, altrimenti avere vaccini senza avere l'organizzazione adatta per poterli fare ai nostri cittadini diventa di difficile risoluzione. Noi siamo molto allibiti da quello che sta succedendo in Regione Toscana. Tutti sanno che la Regione Toscana è maglia nera per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80. Addirittura i giornali fanno questa fotografia, penultima Toscana. È inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati. Occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti. Ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. È assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18. In paesi normali, dove si vuole combattere il virus, si vaccina 24 ore su 24. Lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi, perché sono insieme e super fragili malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità 5 volte superiore a tutti gli altri. E lo dobbiamo fare anche a casa. Ecco la vera novità. Over 80 vaccinati anche a casa. Poi dobbiamo fare lo scudo penale. Per chi va a vaccinare. Avete visto quello che è successo? Assistiamo a che un volontario, magari un medico in pensione, un infermiere, un volontario, somministra una dose vaccinale. Purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere o al volontario. Questo in un momento difficile come questo è assolutamente inaccettabile. La Fondazione Gimbe parla chiaro con i suoi numeri. A fronte di una media del 14,7% dei vaccinati over 80 in Italia, la regione toscana è a 5,3%. Questi sono dati di ieri. Quindi la narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni che stiamo procedendo spediti non è così. Riguardo le vaccinazioni complessive siamo circa a metà classifica in Italia. La nostra proposta di commissione di inchiesta specifica sui vaccini, come l'avevamo proposta noi in Movimento 5 Stelle, era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta organismi della sanità, medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace. Ci dispiace che sia stata rifiutata. Io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti. Sicuramente la Toscana non sta facendo bene e non solo per gli over 80. Noi l'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema dei vaccini ci ha detto che eravamo molto bravi, che eravamo i primi, che eravamo i migliori, il che sinceramente conta poco. In realtà scopriamo purtroppo, ahimè, e non vorremmo averlo appreso, che la Toscana invece non è per niente la prima, ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80, sia rispetto al numero di persone vaccinate rispetto all'intera popolazione. Però nel frattempo si è vaccinato scansi. Ecco, allora noi riteniamo che su questo l'assessore Bezzini probabilmente qualcosa da dirci ce l'avrebbe avuto. Ci sarebbe piaciuto sentirlo. In realtà il tema vaccini è fuori dal Consiglio regionale di oggi e di domani. Quindi siamo molto preoccupati, vorremmo avere delle risposte e sinceramente di sventolare la bandiera dei primi non ci interessa perché non serve alle persone, specialmente quando purtroppo si scopre di essere ultimi. Sempre parlando dei vaccini parliamo invece di una mozione sull'utilizzo senza sprechi di dose di vaccino Covid firmata da Marco Stella di Forza Italia che è diventata l'occasione per fare il punto della situazione sull'andamento della vaccinazione come abbiamo visto ma in modo specifico su una segnalazione. La segnalazione che riguardava il sistema di prenotazione. Il sistema online per le categorie più vulnerabili ha registrato numerosi problemi. Elisa Montemagni della Lega ha chiesto che il presidente della Giunta Eugenio Gianni o l'assessore della sanità Bezzini intervenissero subito in aula per spiegare quello che è successo. Infatti la seduta d'aula si è tenuta come abbiamo detto all'inizio trasmissione il 23 e il 24 di marzo e alle ore 19 del 23 di marzo si sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione dei più fragili e alle 19.01 il sistema è andato in tilt e la gente non riusciva più a prenotare. Quindi lì domani ecco appunto che ha chiesto proprio Elisa Montemagni dei chiarimenti sottolineando che siamo tutti sommersi dalle telefonate di protesta. La situazione è stata spiegata appunto in aula dal presidente Gianni e la mozione a seguito degli alimentamenti del Partito Democratico accolti da Stella è stata approvata in Consiglio regionale. Intanto dobbiamo dire che siamo rimasti allibiti da quello che è successo. è inaccettabile che si dicano alle persone di andare a prenotarsi sul sito alle ore 19 e alle ore 19.01 il sito è andato in tilt. C'è qualcosa che non va e questo deve essere appurato. Dobbiamo cambiare il sito? Cambiamo il sito. Dobbiamo implementarlo? Implementiamolo. Ma è assolutamente inaccettabile che la regione toscana non abbia un sito che supporti le prenotazioni che in questo momento occorrono. Ho da dire che Gianni ha fatto un minestrone di informazioni volando molto alto politicamente ma non ha risposto a quello che gli avevamo chiesto noi a inizio seduta. Perché che il disservizio ci sia stato è evidente. Che l'organizzazione sia carente ormai è conclamato. Però cosa si intende a fare? Da domani ancora non ci è stato spiegato. E forse era anche semplice e umile dire qualcosa non funziona dobbiamo migliorare. Se invece ci si focalizza sul va tutto bene, va tutto bene, ci arrivano però solo vaccini AstraZeneca e non riusciamo ad avere Moderna e Pfizer mi domando perché Eugenio Gianni invece di venire a fare voli pindarici in aula non chiami il ministero e non chieda che ci vengano forniti vaccini sufficienti e idonei per vaccinare le persone fragili e gli anziani. Noi mettiamo 15.000 dosi di vaccino che sono quelle che abbiamo e di più io non posso moltiplicare i pani e i pesci, sono 15.000 per iperfragili che in Toscana sono 80.000 e che noi abbiamo già incominciato a vaccinare con il criterio che chi si vaccina deve essere nell'elenco della ASL la ASL ha incominciato a chiamare. Ci sono anche patologie di cui la persona non gradisce che si conosca all'esterno e l'operatore ASL si è sentito la sollecitazione ma lei chi gli ha detto che io ho questa malattia? Perché mi telefona? Allora accanto ai 10.000 che abbiamo vaccinato nell'arco di più settimane con la telefonata ASL abbiamo detto mettiamo sul portale che semplifica con la possibilità di prenotarsi alla hub i 15.000 vaccini che ci sono arrivati questi 15.000 significano oggi 24 di marzo 15.000 prenotazioni e lo sa che ne sono rimasti 80.000 a meno di 15.000 65.000 persone senza poter corrispondere il proprio desiderio ma i numeri sono questi noi man mano che ci arrivano i vaccini li rimetteremo sul portale e tutti gli 80.000 potranno arrivare a prenotarsi a fare il vaccino Di fronte alla frustrazione di migliaia di persone che non riescono a fare una prenotazione sarebbe invece auspicabile che la regione comunicasse quelli che sono i problemi quelli a lei imputabili e quelli che non sono imputabili come per esempio la mancanza o i tagli delle forniture e soprattutto che trovasse una soluzione e questo può essere fatto all'interno di una commissione d'inchiesta un contenitore all'interno del quale mettere mozioni, interrogazioni dove si possa fare un lavoro tra tutte le forze politiche per cercare di contribuire con la giunta a questo Come abbiamo visto anche in altre situazioni e regioni ci sono stati dei disagi e dei disservizi ben più gravi ma questo non giustifica il fatto che ci sia bisogno di un pronto intervento così come è già stato innescato per risolvere questa problematica e rendere la possibilità di accesso che già per le persone anziane è anche disagevole almeno dal punto di vista tecnico assolutamente accessibile Siccome sbagliare è umano non c'è niente di male se l'assessore, il presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato non c'è niente di male nessuno li accuserà mai di averlo fatto in mala fede nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale Se tu hai 80.000 persone che hanno quel diritto e si sono registrate è evidente che solamente 15.000 hanno avuto quelle opportunità io credo che forse più che andare con il click day anche lì con il timing rispetto alla pronotazione avremmo potuto fare un ordine di priorità tra i fragili che era il meccanismo iniziale che noi avevamo proposto che infatti stava anche funzionando bene perché le prime persone sono state chiamate dai centri di seguimento specifici delle aziende sanitarie e abbiamo fatto quindi un focus su quello che avviene nella vaccinazione una puntata monotematica io vi ricordo comunque per tutti gli aggiornamenti c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it io vi ringrazio per averci seguito e vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio e vi ringrazio per averci seguito